Sì, certo. Anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla sesta puntata di Akum Angels. Oggi i Ranocchi Angels giocheranno contro i Pretoriani di Roma. Partita difficilissima e chi vince andrà a Catania per le finali di Conference. Seguiteci! Siamo qui con l'head coach Alessandro Angeloni. A lui il commento della partita. La partita è stata sicuramente ben interpretata dai miei ragazzi, dai nostri ragazzi. Ci eravamo preparati studiando il loro attacco e la loro difesa. C'è stata una buona presenza agli allenamenti, quindi abbiamo potuto lavorare bene. La partita è il risultato degli allenamenti, il risultato di un gruppo che ha molto entusiasmo e che aveva voglia di prendersi una rivincita contro questa squadra che due anni fa ci ha buttato fuori dai play-off. Quest'anno invece volevamo andare più di loro e adesso ci andiamo noi. Coach, si va a Catania, quindi una settimana importante. Una settimana dove anche i ragazzi dovranno avere una mentalità sempre più convincente per fare un altro step. Purtroppo è una trasferta impegnativa, anche se noi siamo contenti di andare a giocarci la finale della conference. Il problema è il viaggio lungo e quindi alcuni avranno dei problemi, alcuni ragazzi. So che ci saremo, ci prepareremo bene. Abbiamo insistito con i ragazzi anche di fuori di allenarsi sia il martedì che il venerdì e cercheremo di mettere in campo una squadra pronta per vincere anche questa partita. Siamo qui con Matteo Gallo, linebacker dei Ranocchi Angels. Matteo, è stata una partita difficile, una gran presenza, il numero 55 a statistiche le abbiamo messo tante volte. Cosa ne pensi? È stata una bellissima partita, comunque noi ci siamo allenati tanto per arrivare a questo punto. I frutti si vedono e il risultato ne parla. C'è il risultato che in campo abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra da temere. Sei un giocatore di esperienza ma sei anche giovane. I play-off, il football, l'adrenalina, come hai preparato questa partita? Sinceramente non ci ho mai pensato perché sfortunatamente ho giocato solo una semifinale di conference contro Bologna che poi parlo della giovanile quindi anni e anni però purtroppo è andata male quindi diciamo che posso riprendermi la mia rivincita. Siamo qui con Ricky Valentini, uomo di linea dei Ranocchi Angels ma oggi in qualità di babbo con la Vale e con il suo piccolo? Nico. Ecco, ecco il nuovo arrivato, avevo piacere di far vedere Nico, la sua mamma e raccontami qualcosa dalla partita. Caldo, molto caldo, bella partita. Adesso tocca andare a Catania, vediamo di vincere anche là. E niente, non so parlare. Niente, siamo contenti e noi siamo contenti che Nico ha visto la sua prima partita. Ciao, grazie. Marco Gattei, coach dei wide receiver dei Ranocchi Angels, giocatore, ricevitore e oggi cosa è successo? E oggi anche autore di un touchdown, il secondo mi pare che abbiamo fatto in attacco su un'azione di lancio e era tanto tempo che non succedeva, è stato molto molto bello e diciamo che è stato un piccolo mattone in quello che oggi ha costruito tutto il nostro attacco, il punteggio finale è bello rotondo e in attacco, in grossa parte, abbiamo costruito mattone per mattone una partita che si è rivelata fisica la squadra avversaria era molto ben disposta e quindi nonostante il largo margine finale però è stata una partita tosta. E all'inizio infatti abbiamo dovuto imporci in attacco fisicamente con giocate molto fisiche e molto tecniche però poi alla fine, alla lunga distanza, siamo venuti fuori come racconta il punteggio. Un 44 a 14 per le Ranocchi Angels, un ricevitore, un aiuto, un coach e quindi possiamo solo dire grazie a Matteo, a Marco che ci ha aiutato tanto. Grazie a tutti quanti voi per questa opportunità e per questa bellissima giornata. Grazie Angels. Luciano Civinelli, durante tutta la stagione si ripeteva questa domanda si ripeteva questa domanda era ma vuoi finire di fare il giocatore di football americano? E quest'anno per forza te lo devono fare. L'ultima stagione te l'aspettavi? Non mi aspettavo di arrivare così lontano in un campionato sono contento, è quasi un sogno chiudere una carriera arrivando così lontano in un campionato è già un bel traguardo. È un sogno per me proseguire ancora e chiudere nel miglior dei modi questa stagione. Ringrazio tutta la società, tutti gli Angels tutti i miei compagni di squadra perché comunque insieme siamo davvero una bella squadra e ognuno mette il proprio per fare quella yard in più che ci serve per conquistare metri nel campo. Davvero grazie a tutti i miei compagni per questa possibilità e questa occasione. Questa mattina nell'allenamento di rifinitura sorridevo perché quando parlavi con Ferri dicevi sei infortunato, grazie perché almeno posso giocare e hai dimostrato che oltre al fatto che hai giocato ma hai giocato e placato e ti sei anche divertito e hai vinto anche un premio. È un premio? Grazie, grazie sempre a Angels grazie a Ferri purtroppo che mi ha lasciato il suo posto. Per me è un'occasione anche giocare solo qualche azione perché purtroppo faccio molta fatica a seguire tutti gli allenamenti per questioni mie personali e ogni volta che si presenta la domenica è davvero una grande occasione per me far parte di questa famiglia anche solo esserci perché solo esserci comunque mi riempie e quindi grazie anche al football americano uno sport davvero bello che in questi anni di carriera mi ha dato davvero tanto sia come persona sia come nel personale e quindi grazie davvero sempre ad ogni occasione. E noi non potevamo che scriverlo grazie a Civi Filippo Pier Maria Filo De Mousse numero 42 1993-2023 30 anni di carriera 30 anni di football americano 30 anni che lo vedo sempre accanto a me è una gioia per me presidente di Ranocchi Angels per me amico di Filippo Pier Maria presentarlo e farlo parlare e far capire a lui cos'era oggi per lui questa sua ultima partita in casa e fortunatamente no della stagione Filo racconta qualcosa ma innanzitutto una vittoria così era quello che mi aspettavo la storia continua perché appunto abbiamo un'altra partita sicuro 30 anni di emozioni come giù te 30 anni tra amici te ti ricordi poi le trasferte che faceva Marimini con un pulmino scalcinato in nove quelle sono cose che segnano la carriera di un giocatore ed è per questo che ancora sono qui a giocare perché comunque in questi anni ho trovato amici con i quali ho condiviso tante cose tante avventure e questo ha fatto di me un giocatore e un uomo Filo tu sei l'ultimo tassello di un puzzle che collegava i vecchi Angels nati nel 1981 ai nuovi rinati nel 2006 sei l'ultimo tassello che ha unito le due generazioni cosa stai insegnando ai tuoi compagni quando ti alleni e quando giochi sicuramente insegno quello che mi hanno insegnato a me negli anni 90 ovvero che il football è uno sport di sacrificio uno sport di squadra devi contare sul tuo compagno e il tuo compagno deve contare su di te quindi lavorare molto insieme fare gruppo, fare amicizia stare anche magari un'oretta dopo gli allenamenti a parlare a fare due chiacchiere perché comunque si creano anche dei legami che poi durano tutta la vita vedi Frank, conosco da 30 anni e ancora siamo qui insieme insieme con Ale Angeloni, Andy eccetera eccetera quindi cerco di insegnargli questo ad avere rispetto del tuo compagno e avere fiducia in lui quindi iniziamo a far festa per questi tuoi 30 anni o aspettiamo ancora? ma assolutamente aspettiamo io voglio arrivare quest'anno fino in fondo non voglio finire sicuramente la mia carriera a Catania voglio andare là a vincere e poi andare a giocare la finale e vincere anche quella sarebbe proprio la ciliegina sulla torta per concludere una carriera bellissima quindi questa ciliegina con la torta che offrirà Pier Maria per i suoi 30 anni di futbolo grazie Filo Andrea Angeloni offensi coordinator dei Ranocchi Angels Andrea siamo in finale di conference a Catania qui stiamo già alle spalle divertendoci un po' parlami della partita allora la partita sapevamo che sarebbe stata dura perché gli avversari ci avevano già battuto due anni fa a Roma quindi da parte mia c'era anche un po' di cercare una rivalsa insomma per quella sconfitta è stata dura però loro ci concedevano una cosa e noi l'abbiamo presa e con quella siamo andati fino alla fine e siamo riusciti a tenere la palla a segnare il touchdown a far passare il tempo e a vincerla hai costruito pian pianino yard su yard un'equilibrata partita sulle corse e sui lanci dando motivazione a un pacchetto di running back fantastico ce ne hai due che ti corrono come gli assassini e poi tu inventi loro inventano beh allora che abbiamo due probabilmente abbiamo la coppia di running back più forte del campionato più forte del campionato e quindi io purtroppo per un po' per diverse partite abbiamo dovuto fare a meno di Tommaso Maltoni ma adesso che è tornato questi funzionano e in più abbiamo anche una batteria di ricevitori che può supportarci in qualsiasi situazione e il quarter perché si sta comportando veramente bene quindi l'attacco funziona adesso vediamo con le prossime con Catania ma io ti posso solo dire da amico non da presidente e complimenti grazie mille mamma mia butta giù la pasta diceva qualcuno finita la partita l'ultima partita in casa per i Anocchi Angels e la partita l'abbiamo vinta noi noi Angels 44 a 14 un punteggio fantastico contro i Pretoriani di Roma Coach Angeloni l'aveva promesso i ragazzi erano convinti Presidente stacca il biglietto vogliamo volare in Catania per vedere cosa succederà a Catania sicuramente sarà una partita difficilissima ma noi saremo lì pronti per affrontare questa nuova avventura quindi Catania scusate arriviamo e go Anocchi Angels Ciao Ciao A presto